Questa mattina l'ambasciatore americano in Italia David Thorne è stato in visita a Napoli dove ha incontrato a Palazzo Santa Lucia il presidente della regione Caldoro e a Palazzo San Giacomo il sindaco De Magistris. In un clima di grande cordialità il diplomatico statunitense accompagnato dal console generale Donald Moore e dal console per gli affari economici e politici Jeffrey Young ha espresso il suo apprezzamento per l'entusiasmo con cui questa amministrazione comunale sta interpretando il governo della città. Dal canto suo De Magistris ha indicato all'ambasciatore la centralità dello sviluppo di Napoli nel suo programma politico auspicando la collaborazione con gli Stati Uniti in occasione di eventi internazionali come il prossimo Forum delle Culture 2013.